La giovane promessa e il giovane fuoriclasse, e Alessandro Micheletto. Moschini, Moschini e un altro. Pertanto il Pivaglia del Trento è in continuo, stagliere dietro è quasi impossibile. Senti è stata una bella partita per chi l'ha vista, per voi è stata una bella faticata, ma anche è uscito fuori quello che è il vostro spirito, la vostra qualità, la vostra voglia sempre di Vigio. Venire qua è sempre una battaglia, abbiamo perso, abbiamo lottato tanti tie-break, quindi anche oggi sapevamo che sarebbe stata Dosta e così è stato. Dopo un avvio buono, siamo un po' calati a fine set e loro l'hanno vinto, però siamo rimasti in partita, abbiamo sofferto, siamo stati lì, non perfetti, però comunque siamo riusciti a portare a casa un bel risultato che ci voleva e che miglioriamo già quello dell'anno scorso. Una cosa, in settimana il Presidente D'Area ha detto che dobbiamo dimostrare che a noi ci accontenta un secondo posto, dobbiamo lottare, mi sembra che oggi in una partita che tutto sommato era solo quella d'esordio che avete già dimostrato, quali sono le vostre attenzioni? Beh, va bene, questa squadra è una squadra forte ed è una società forte che punta a vincere, abbiamo i giocatori per farlo e quindi ci proviamo, bisogna essere più bravi degli altri, in finale non lo siamo stati in Supercoppa, spero che siamo bravi per far sì che ci siano altre occasioni per arrivare in finale, l'anno scorso abbiamo visto quanto è difficile arrivare in finale con queste squadre così forti, quest'anno vogliamo fare uno step in più e portare a casa qualche trofeo perché, insomma, sappiamo che fa bene, fa bene alla nostra società, fa bene a noi ed è bellissimo, abbiamo una squadra di freddo forte che secondo me può ambire a queste cose qui. Grazie.